non è che riuscite a fare mezzo metto più là che così se per caso va di là a 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 avanti a 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 forza dai che c'è di qua dai sembrava di qua ragazzi calcio davide bello vai lolo attenti mamma mia che se il vicenza è tosto è avanti palla si prima ha giocato bene il vicenza sai bella spiglia che poi ti becchi ma si sono i partiti è stata la tua giornata non vediamo una con mia zione ahahahah 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 io sinceramente domattina le stai devo prendere i cavoli duro cavoli sull'anato che ora mia mia a eh tanti che vieni 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 Tenti, tenti, tenti dai che è buono! Ci vanno, ci vanno, ci vanno, ci vanno! Ci va Radu! Veloci eh! Veloci! Veloci! Vai forza! Vai! Vai! Vai Radu! Veloce! Mamma mia! L'apriamo! Vai che se l'aprite è buona eh! No porco! Giu-Gitsu! Miseria! Giu-Gitsu! Ci respingono sui dieci metri! Prendiamo la palla! Tenti che la aprono! Grande Consiglio! Veve... E' controllo! è commiettermi in questo modo! Vediamo il so.. ...cosman… Chi va il confano via le fonte! Chi va e conように? Chi va e con Lambente... Dai oggi! Chi va e con il manico! Chi va e con il lí Hol warfare? Paio il palindisimo! Chi vaί d'attenzione! Chi va con il palindisimo! Chi va colindisimo! Combattuto! Rights! destroyed! E' bella uguale, ma anche noi. Non interessa. Si infatti, è solo perchè è bella già. Si vede o perchè vede. Però. Senti 10 metri che mi fregano. E' bravo Vicente. Senti che l'aprono. Ma no, sto avanti qua. E' in avanti? Eh si, ma cos'era? Non so perchè è andato indietro e è tornato avanti. Lui era lì, l'arbitro c'era però. 20! 20! 10! Su, su, su! Su! Passione! Nooo dai! Che battaglia, che battaglia! 20! Aia! Bravo! 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 Adesso subiamo noi. Eh son bravi. E' una partita equilibrata ragazzi. Se voglia sempre fare dolore. Sì! Sì! Ho fatto un vantaggio. Io non guardo mai largo. Sì! Sciù! Ciao! 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 Sopra, no! Sostegno! Ha preso i 10 metri prima, ne? Si è tornato su vantaggi. Adesso sono dietro, sono cascati una volta. Bello, dai, bello! Noo, che stiga! Però è andata indietro, eh! Fuori? No, ci ha fatto male con il colpo all'aperto. Chi è? Uno del vice. Ah, si? Abel Mi dispiace, però. No, è un po' quello che poi quando la piazza si bacchano in faglia. Ho fatto il calcio tattico due volte, non vedi? Non è che... ...non è che... Il calcetto a sperare. Luigi è scompato e anche Vittorio. Sono lì sotto. Vittorio è andato giù. Dai ragazzi, svoli. Dai vai, accelera. Loloz. Lui è andato piano. Lui è veloce, di solito. Vai, vai! Vai, vai! Vai lì in sostegno. Bisogna stargli attaccati ragazzi. Dovano andare a mille lì. Ti fermano pazienti. Eh, sei un po' guardato in giro. Saranno un po' cotti. Parlo io che se fossi lì vado all'indietro. Non vado in avanti. Ah sì, io devi parlare semplice di qua. Che fa quello che bisogna prendere nei commenti. Prendere dove vengo. La mica di lato. Non l'hanno calonata. Questa finisce a 0-0? Qua succede? Fanno calci. Un punto per uno a basso. Punto per uno. Sì, è pareggio. Sì, sì, è ragione. No, sono due punti. Perché la facevano 4 punti ieri. non è il consente. Ecco sono. Sì, sì, chi va a david. Davide potte vede dare. S'è se stessa. S'è se stessa. S'è se stessa. Ah, preciera. Nostra Larghi, larghi, larghi Larghi e profusi E svegli Svegli, svegli, svegli Chi è questo? Chi è? Eh lo so Forza la mina Cavolo, che sfiga Eh eh, per forza Ma tu non puoi fare diverso a me Ehi, la lasci Sì, infatti Vabbè, ma questo succede Quanti non mi stia a 6 nazioni O si mettono della colla sulle mani prima della partita Perché puoi passarla un casino Quello è vero Eh sì Ma perché ora mancherà poco Non lo so Mancherà poco Perché? Eh no, va bene Lui deve provarci Bello Bello No, va bene Vai Ah No, va bene Vai Vai Acqui Ruba Fumala! Dai dai dai! Dai Alessio! Passa! Passa! Passa questa palla! Vai 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 vai! Vai 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 vai! Vai Radu Radu! Hai persa! Dai Pischia! su un punto a testa, non so ne parlare più, due puntate, ok, non ne ha fatti tre?